signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e questo video ha seriamente rischiato di diventare un rant ma poi sono riuscito a calmarmi fare un profondo respiro e mettermi a scriverlo per bene prima di accendere la telecamera siatemene riconoscenti perché non sarebbe stato affatto un bello spettacolo sentire me urlare per 20 minuti su questo questa settimana andiamo a parlare di qualcosa che in realtà è molto importante ma spesso viene malinterpretata più o meno volontariamente da molti master e anche da molti gruppi di gioco questa settimana andiamo a parlare della differenza che c'è tra quello che è un problema al tavolo e quella che la divergenza tra i gusti personali di un gruppo di gioco e mi rendo conto che detta così sembra qualcosa di abbastanza accampato per aria o sembra un non problema in realtà è un argomento decisamente spinoso perché si va a portare dietro tutta una serie di ipocrisie che esistono in maniera congenita in molti gruppi e che vanno alla fine a danneggiare l'intera community del gioco di ruolo comunque non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere quali sono queste fantomatiche differenze dato che questo non deve essere un rant cominciamo facendo le cosine per bene e vediamo qual è la definizione di un effettivo problema al tavolo e di perché non è una divergenza di opinioni cosa che all'apparenza dovrebbe essere ovvia ma a quanto pare non è così quando si dice che qualcosa è un problema per il gioco si si riferisce a un comportamento un'azione o anche un'inazione che uno dei giocatori il master uno dei partecipanti nel tavolo mette in atto e che impedisce o al sistema di regole di funzionare per come è stato concepito o agli altri giocatori di poter intervenire nel gioco come appropriato che facciano cosa possa essere nello specifico dipende da qual è il gioco e sta venendo giocato le possibilità sono virtualmente infinite facendo un esempio banale diciamo che nel classico dungeons and dragon il party è spinto a agire sempre come un gruppo unitario con un obiettivo comune discussioni o il party che si divide i giochi per i vari personaggi che non perseguono obiettivi comuni all'interno di dungeons and dragon è vista come una forzatura o qualcosa di deleterio in vampiri al contrario questa cosa praticamente è prevista e si dà per scontato che ogni personaggio faccia gli interessi sia del proprio clan sia personali e che molto spesso metta tutto questo al di sopra e gli interessi del party se non che letteralmente vari personaggi cerchino di farsi le scarpe uno con l'altro per arrivare a estremi assoluti come agon in cui i giocatori sono in diretta competizione tra i loro per decidere quale dei loro personaggi sarà il protagonista della storia non starò a perderci più di tanto tempo su questo ne abbiamo già parlato anche in video delle scorse stagioni piuttosto vi lascio qualcosa di appropriato linkato qua sopra diciamo comunque che un problema è qualcosa che impedisca agli altri giocatori di partecipare e al sistema di funzionare nella maniera in cui è stato previsto che queste interazioni avvengano quando parliamo di gusto personale invece si intendono tutte quelle cose che potrebbero non piacere al singolo giocatore al singolo master indipendentemente da quello che lo spirito del gioco la sua narrativa di riferimento anche in questo caso parliamo delle cose più disparate anzi dubito che esistano due giocatori che abbiano esattamente lo stesso gusto potrebbe riguardare sia lo stile del gioco che i temi affrontati ci sono i giocatori che vogliono quest frenetiche in cui i fatti corrono uno dietro l'altro senza mai interrompersi sempre di corsa fino ad arrivare al finale e quelli che invece vogliono una cosa di più lenta in cui possano esplorare l'ambientazione parlare con tutti i png scoprire tutti sui retroscena e analizzare ogni minimo dettaglio del world building ci sono quelli che vogliono combattimenti dopo combattimenti e quelli che invece passerebbero intere serate a giocare loro che ordinano la birra in taverna anche a livello di regole ci sono giocatori che giocano solo ed esclusivamente a un determinato sistema e gente che vuole continuamente provare nuovi sistemi quindi se un gioco ci hanno già giocato semplicemente non vogliono più giocarci vogliono sempre qualcosa di nuovo ovviamente però tutte queste sono cose che appunto riguardando praticamente il gusto personale non possono essere considerate oggettivamente o giuste o sbagliate il fatto che una persona piaccia più o meno parlare con i png non è qualcosa che possa essere inteso come di per sé sbagliato o di per sé corretto dipende appunto da quello a cui piace a quella specifica persona ovviamente per questioni come queste non è possibile stabilire quale sia la cosa corretta o sbagliata in maniera oggettiva non esiste un modo giusto o sbagliato per parlare o non parlare con i png e non esiste un motivo giusto o sbagliato per non apprezzare un sistema di gioco sono cose che riguardano appunto il gusto personale quindi totalmente soggettive immagino che ci sia qualcuno di voi adesso e si sta chiedendo dove voglio andare a parlare con sta cosa perché ora bia bia siamo arrivati alla fine del secondo blocco mi è capitato di incontrare master che non riescono a capire la differenza tra queste due cose o almeno dicono di non riuscire a capirla quindi vediamo di spiegargliela bene perché far passare qualcosa che non è un problema per un problema potrebbe anche avere delle conseguenze peggiori di quelle ci si può immaginare un tipico atteggiamento sbagliato che molti master anche interi tavoli portano è quello di cercare di convincere un giocatore che per qualche motivo in esperienza non sconosce quel gruppo magari non conosce proprio il gioco di ruolo così bene comunque un giocatore che metta in atto al tavolo qualcosa che riguarda il suo gusto personale e cercare di convincerlo che in realtà quello che lui stia facendo sia un fraintendimento dello scopo del gioco di ruolo o comunque qualcosa di oggettivamente sbagliato il giocatore che magari non è particolarmente interessato al combattimento tattico al movimento sulla griglia diventa un giocatore che non riesce a comprendere le regole del gioco il giocatore che magari è semplicemente più taciturno o magari preferisce parlare il suo personaggio in terza persona diventa il giocatore che non riesce ad astrarsi dal suo personaggio non riesce a creare immedesimazione al tavolo il giocatore che magari nell'attesa e torni al suo turno si controlla le notifiche sul cellulare diventa il giocatore che non riesce ad agire insieme agli altri e ha un evidente problema di attenzione ora effettivamente ci sono persone che hanno problemi ovviamente ci sono problemi persone che non riescono a seguire le regole persone che non riescono a stare dietro il resto del gruppo persone che non riescono ad agire insieme ad altre persone ne abbiamo anche già parlato in un video tempo fa non starò di nuovo qui a ripetermi però tolto questo un comportamento del genere è sanzionabile solo se in qualche modo impedisce l'azione degli altri giocatori al tavolo non se è contrario a quello che il master preferirebbe i suoi giocatori facessero il giocatore taciturno che difficilmente parla per il suo personaggio e fa parlare il suo personaggio solo quando effettivamente ha qualcosa di importante da dire e tende a non intervenire a meno che qualcuno lo interpelli direttamente magari può dare un'esperienza di gioco effettivamente più noiosa di un giocatore più estroverso che parla continuamente interpreta eccetera questo però non vuol dire che il suo comportamento sia scorretto lui ha tutto il diritto di essere una persona più riservata e taciturna qualunque sia il motivo potrebbe essere semplicemente timido potrebbe non trovarsi con il suo nuovo gruppo di gioco potrebbe semplicemente essere nella sua vita una persona che parla molto poco che è un problema che a me risulta del tutto incomprensibile ma mi hanno spiegato esiste avrebbe perfettamente senso da parte del master parlare con questo giocatore e chiedergli perché parli poco e anche digli esplicitamente guarda noi preferiamo giocatori che siano più estroversi e se questo giocatore dicesse no io voglio comportarmi così sarebbe altrettanto legittimo per il tavolo dire e allora trovate un altro gruppo perché a noi quello che stai facendo non piace magari brutto sentirselo dire però perfettamente legittimo da parte del tavolo se qualcuno non riesce a integrarsi al modus operandi di quel gruppo si fa prima a cambiare giocatore che a cambiare un giocatore il discorso diventa diverso se invece di ora il discorso come guarda quello che fai non ci piace il discorso viene posto come guarda quello che fai è il sintomo di un grave problema devi cercare di cambiarlo anche perché dall'altra parte soprattutto se il giocatore inesperto questa cosa potrebbe cominciare a causare davvero un problema già anche solo ansia una persona cui viene detto che sta sbagliando anche se oggettivamente non c'è niente che lui stia sbagliando comincerà a cercare di capire dove sta sbagliando e perché sta sbagliando altra cosa al giocatore che vuole sempre lì il giocatore che vuole parlare di meno un master che lo costringa in ogni scena a intervenire con qualsiasi scusa buttandogli png in faccia questa persona evidentemente non vuole interagire così tanto dover interagire costantemente quando non vuole fare qualcosa al di là del probabilmente causargli degli stress gli farà diminuire molto il suo interesse nei riguardi al gioco di ruolo un discorso analogo soprattutto nei giochi tradizionali normalmente lo vedo succedere per quanto riguarda il combattimento sulla griglia tattica c'è una differenza tra il non capire le regole e semplicemente non essere interessato alla parte schirmish del gioco un giocatore potrebbe essere perfettamente in grado di applicare le regole di combattimento semplicemente non ha voglia di fare niente di più complesso di correre verso il nemico o usare quel minimo di incantesimi in base a quello che sta succedendo senza bisogno di creare enormi piani di battaglia o creare personaggi montati in una maniera incredibilmente complessa al contrario questo vale anche per interpretazione retroscenare il personaggio c'è chi si diverte a creare praticamente intere ambientazioni solo per giustificare il proprio personaggio e a chi sta benissimo essere bob il guerriero combatto per soldi molto spesso in un sistema tradizionale non c'è neanche bisogno di andare al di là di bob il guerriero che combatte per soldi per integrare un personaggio nella storia il giocatore che non ha voglia di scrivere un enorme retroscena per il suo personaggio non ha un problema con l'integrazione nella storia semplicemente non gli piace farlo questi ovviamente sono solamente degli esempi molto probabilmente a voi sarà successo qualcosa di analogo anzi scrivetelo già faccio già che dirlo scrivete nei commenti sotto però il discorso rimane far credere a una persona di avere dei problemi quando questi problemi non ci sono al di là di essere proprio eticamente scorretto nei confronti di quella persona potrebbe in realtà semplicemente far allontanare un giocatore dal gioco di ruolo senza che lui abbia fatto nulla e sbagliato questo comunque non vuol dire che vale tutto e qualunque cosa uno voglia fare puntanto che non infrange esplicitamente le regole allora ha il diritto di farla uno dei punti di forza del gioco di ruolo come forma di espressione artistica è proprio quella che nel gioco di ruolo l'autore e il suo pubblico coincidono un tavolo in cui si gioca di ruolo sta creando una storia e la sta raccontando agli stessi giocatori che siedono a quel tavolo questa è una cosa che solo il gioco di ruolo può avere però come in qualunque altra forma d'arte collaborativa ci deve essere un certo grado di visione artistica integrata e di unità di intenti tra chi partecipa all'opera come ho detto prima se c'è un giocatore che vuole tenere un comportamento un atteggiamento o comunque delle preferenze o quello che vuole fare che sono in palese disaccordo col resto del tavolo quel giocatore deve essere informato che no a quel tavolo le cose non funzionano così e deve essere allontanato in modo che possa trovarsi un tavolo in cui le cose vengano fatte come piacciono a lui c'è però una grossa differenza tra digli a noi non piace quello che tu stai facendo quindi per favore vai a farla un'altra parte e tra il digli tu stai sbagliando in quello che stai facendo e devi correggerti perché è tutta colpa tua visto quanto vasto e variegato è effettivamente il mondo del gioco di ruolo qualunque cosa a voi piaccia probabilmente qualcuno da qualche parte la sta facendo e se siete in un gruppo che non gioca come vi piace essere allontanato da quel gruppo in realtà per voi è un favore che vi stanno facendo perché questo vi permetterà di trovare un altro gruppo che è più consono a quello che voi volete portare al tavolo senza contare più che altro che che poi è la cosa che fa veramente arrabbiare me in tutta questa storia è che molto spesso il discorso sei tu che sbagli viene fatto per pura mancanza di faccia tosta da parte del tavolo che pur di non dire a qualcun altro guarda semplicemente non mi piace quello che stai facendo mente deliberatamente cercando di convincere questa persona dandosi anche un tono di superiorità cioè ah no no ma tu sei inesperto non stai capendo fai esattamente quello che dico io che ne so molto più di te questo tipo di discorso è puramente ipocrita non c'è altro modo per definirlo e molto spesso viene fatto da gente che in realtà non ha capito come funziona il gioco di ruolo se no questo discorso non lo farebbe proprio quindi molto probabilmente se qualcuno cerca di fare quello che dicono loro di fare peggiorerà come giocatore non lo migliorerà questo lo dico perché se tra quelli che stanno ascoltando qualcuno di voi si sta trovando in questa situazione se ne vada da quel gruppo non hanno a cuore i tuoi interessi e chiarito quest'ultimo punto che è probabilmente la parte più importante del discorso possiamo anche dire che per questa settimana il video lo chiudiamo qui sono particolarmente orgoglioso di me stesso per non aver urlato neanche un pochino almeno nelle parti che non ho tagliato dal video probabilmente un video un attimo più verboso del solito ma consideratevi fortunati la prima installazione di questo video era fondamentalmente io che urlavo per 20 minuti contro la telecamera e non dico che non sia qualcosa di tipico di youtube ma almeno non dovrebbe accadere all'interno dello youtube giochi di ruolo Italia come sempre adesso la parola sta a voi scrivetemi sotto nei commenti se vi è successo se vi siete poi resi conto di averlo fatto voi ad altri e nel caso come vi siete scusati perché spero lo abbiate fatto comunque se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo credo a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il link del gruppo di telegram del server discord dove metto le motifiche io manualmente quindi siamo sicuri che non le perdete io sono il master kai noi ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale